Riorganizzare i servizi di trasporto pubblico è renderli più efficienti e fidabili ed economicamente sostenibili. Sono questi gli assunti di base su cui si è fondata la redazione del decreto di legge approvato ieri sera dall'Aggiunta regionale sul tema dell'ammodernamento del sistema dei trasporti pubblici su tutto il territorio regionale. Una progettazione impegnativa per la cui realizzazione sono previsti due anni di lavoro e che è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso la nuova sede degli uffici della regione Calabria Germaneto. È una proposta di legge che riorganizza, rivoluziona il sistema del trasporto pubblico locale. Noi abbiamo l'esigenza di mettere ordine in questo settore per rendere più rispondente alle esigenze di mobilità il sistema dei trasporti, per tagliare sprechi, per razionalizzare un servizio che è di fondamentale importanza per il nostro territorio, per apportare le necessarie innovazioni, quindi riorganizzare, servire i territori con maggiore efficienza, razionalizzare la spesa, fare in modo che anche nella nostra regione si possa attraverso un servizio efficiente, rispondente alle esigenze dei territori e alla mobilità più rapida nei territori, si possa fare crescere la nostra regione.